La buona sanità a servizio dei cittadini dopo un iter burocratico durato quasi due anni, infatti il reparto di Otorino, la ringoriatria dell'ospedale civile di Pescara, è stato riconosciuto come centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto testa-collo. Si tratta di un attestato di eccellenza per le qualità delle prestazioni sanitarie garantite negli anni dall'unità operativa diretta dal professor Claudio Donadio Caporale. E' la conclusione di un iter iniziato dieci anni fa nel 2009, più di dieci anni fa nel 2009, che ha visto appunto la realizzazione di una delibera, attraverso una delibera regionale del centro di riferimento, che non riguarda il mio reparto ma che coinvolge più specialisti della AS di Pescara. Ci tengo a dirlo perché questo è un lavoro di gruppo, non è il lavoro solo del reparto di Otorino, la ringoriatria. Sono specialisti di altre discipline che insieme lavorano per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico di pazienti affetti da tumori del testa-collo. Quali sono i sintomi, dottor Caporale, di un'eventuale problematica nel cavorale? Sì, fondamentalmente due. Una è la disfagia e l'altra la disfonia, cioè la difficoltà nella deglutizione e soprattutto l'abbassamento della voce per ciò che riguarda la laringe. Sono sintomi che ci devono preoccupare soprattutto se non recedono nel giro di due settimane. Importante come sempre la prevenzione e voi nel vostro reparto siete riusciti ad abbattere tra l'altro le liste di attesa? Sì, da ciò che è venuto fuori dall'analisi degli ultimi anni c'è stata una netta riduzione dei tempi di attesa, soprattutto per quanto riguarda questo tipo di patologia oncologica. Ed è a tal riguardo importante sottolineare come il 21 di questo mese, il mese di aprile, ci sarà proprio una giornata dedicata alla prevenzione dei tumori del cavorale e tutto questo serve proprio a sensibilizzare l'opinione pubblica verso questo tipo di problematica. Grazie.